Riparte la stagione Cube 2010-2011 con grandi concerti, sorprese e premi. Dopo un'estate piena di successi con quasi 10.000 presenze al Club Festival al Parco Gondar, ritornano i grandi eventi firmati Cube. Qui con me per parlarcene Daniele IV, ben trovato. Ben trovato a te, ciao a tutti e grazie per lo spazio che ci concedete sempre. Allora, vogliamo dare qualche anticipazione? Beh sì, noi ci stiamo orientando su due categorie di eventi, i concerti, per esempio avremo ospiti il Teatro degli Orrori, gli Odrick Tentacles, i Baustelle e molti altri, e poi diciamo quegli appuntamenti che sono un po' più ludici, come per esempio quello di Halloween, dove noi abbiamo pensato di unire il DJ set classico agli 80 che un po' ci contraddistingue a un musical di un'ora, un estratto del Rocky Horror Show. E quindi lo proiettate? No, no, ci sarà una compagnia con 18 attori e 10 musicisti. È una cosa grande quindi? Sì, è una cosa carina. Noi abbiamo pensato piuttosto che riproporre la solita formula a concerto DJ set, sperimentarci con questa formula teatrale, musical, un estratto ovviamente di un'oretta, con molta musica e poi il DJ set. Questa compagnia di dov'è? È una compagnia che fa capo, è nel bar in ordre, quindi da barletta, sì 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 sì. Quindi cerchiamo di dare sempre spazio ai talenti locali, loro stanno portando in giro un bel musical che ne unisce tre molto molto grossi, tra cui il Rocky Horror e quindi abbiamo pensato di coinvolgerli quest'anno. Che cos'è il fattore C? Allora, il fattore C diciamo che è un progetto per dare spazio ai talenti emergenti, un po' scimmiottando quelli che sono i sensazionalismi dei talent show, no? Noi abbiamo una riserva qui in Puglia di veri talenti, di talenti reali che non hanno molto bisogno di pubblicità tanto per essere, ma hanno bisogno di pubblicità per diventare. Quindi noi abbiamo pensato a questa formula di talent show scimmiottando un po' quelli che sono i vari X fattori, andando a creare però il giovedì sera uno spettacolo che sia sì pieno di musica nuova, ma che sia anche divertente per chi magari la musica nuova proprio non la mastica, per cercare, come dico io, di omogenizzare il contenuto e farlo fruire da più gente possibile. Comunque fate una selezione a priori. Sì ci sarà una selezione a priori, io invito tutti gli amici che suonano, che hanno qualcosa da dire o da presentare a scriverci magari sul nostro Facebook perché stiamo cercando in questi periodi i talenti da inserire, si tratta di band emergenti, musicisti, poeti perché no anche pittori, scultori, chiunque abbia qualcosa di creativo da voler farci vedere lo potrà fare tutti i giovedì sera in questo appuntamento Cube che si chiama Fattore C. C'è un premio? Sì sì, bisognerà avere molto Fattore C per vincere i premi che ci sono, infatti ce ne sono diversi, diciamo abbiamo una serie di amici che ci mettono a disposizione dei regali per chi vince. Quali? Quali regali? Ma guarda, si tratta di strumenti musicali, di biglietti aerei, di... che però, voglio dire, nel nostro piccolo potrà contare su tutto il nostro supporto promozionale. Bene, bene, complimenti Daniele che, ricordo, organizza questi eventi anche in collaborazione con degli altri ragazzi che adesso salutiamo per correttezza. Sì sì sì, sono tutti giustificati gli assenti, però li salutiamo. Non vuoi dire neanche un nome, bene, ciao. Un sito quindi di riferimento soltanto Facebook? No, no, abbiamo il nostro sito che è www.cubelive.it dove trovate tutti gli appuntamenti, tra cui in realtà mi sono dimenticato quello più importante per noi, almeno parlo dal punto di vista di impegno economico, che è il concetto di J-AX, che manca in Puglia da un bel po' di tempo e che suonerà al Demodè per noi il 29 ottobre. Che soddisfazione! Attenzione, sì. Il costo dei biglietti è sempre un costo politico? Sì, senza che adesso li stiamo dicendo, li stiamo qui a dirgli. No, no, però non sono comunque alti i prezzi dei... È molto semplice, noi vediamo la media del tour, dei concerti degli artisti che fanno in tutta Italia e normalmente li abbassiamo di un 10% per una scelta nostra, proprio di direzione artistica. Bene. So anche che avete migliorato a livello anche di acustica l'ambiente del... insomma nel quale voi ospitate solitamente. Sì, sì, sì. La proprietà del Demodè, che è uno dei posti dove noi facciamo i concerti, interviene sistematicamente su... Che non è poco. Non è poco perché lo spazio essendo molto grande necessita di investimenti molto importanti, quindi è una cosa che si fa gradualmente. Bene, bene. Io ringrazio Delile Quarto per essere stato nostro ospite, l'appuntamento è al Demodè. Al Demodè. Google Cube. Grazie. Vi aspetto. Grazie. Ciao.